Silvia Romani, buonasera. Buonasera. E benvenuta qui nel posto delle parole per anticipare, seppure nella brevità di questa conversazione, l'incontro che lei avrà al Festival di Biennale Democrazia a Torino. Lo avrà il 23 marzo alle ore 18. Il titolo dell'incontro è Libertà di volare. E andremo a vedere in che cosa consiste questa libertà e come noi ci comportiamo dentro la parola libertà e come coniughiamo il verbo volare. Ma Silvia Romani, lo ricordo ai nostri ascoltatori, tra l'altro è già stata nostra ospite a proposito del Memoria Festival di Mirandola, insegna, mitologia, religioni del mondo classico e antropologia del mondo classico all'Università Statale di Milano. Ha pubblicato diversi contributi dedicati all'immaginario religioso, antropologico e mitico delle donne della cultura greca. Ora, nella prospettiva di questo studio, nella profondità del tempo, Silvia Romani, dall'immaginario di allora all'immaginario di adesso, che cosa si proietta oggi nel mondo contemporaneo di quel mondo immaginario così lontano nel tempo? Questa è una domanda che è sempre più all'ordine del giorno, naturalmente, perché stiamo un po' cambiando, stiamo passando da un momento in cui gli antichi, perlomeno i miei antichi, erano le nostre radici, a rendere tutto molto problematico e anche, in talunni casi, a negare il fatto che i greci e i latini abbiano davvero qualcosa da insegnarci. Naturalmente proiettano nel nostro mondo un'immagine che, anche inaspettata, che a volte davvero fatichiamo a riconoscere, perché siamo abituati a pensarli come un'immagine rassicurante delle origini di quel che è stato, ma in realtà la loro eredità è molto più complessa. E questo si vede anche bene, io direi, nel tema che mi è stato affidato e di cui vorrei occuparmi per la Biennale Democrazia. Biennale Democrazia con libertà di volare. Ora, lei diceva poco fa il tema che è stato affidato, perché vorrei anche toccare questa cosa che è un po', Silvia Romani mi concede, andare dietro le quinte, no? Di quello che succede quando noi andiamo agli incontri. Ora, noi andiamo agli incontri, Silvia Romani, insieme con Alice Borgno, ci racconteranno la libertà di volare. Ora, noi potremmo pensare che il tema è scelto da chi fa l'incontro. A volte succede così, ma a volte anche concertato insieme con quella che si chiama la direzione artistica, la direzione scientifica. In questo caso, com'è andata la scelta del tema? Il tema, diciamo, è una sorta di incrociarsi di desideri e di aspettative. Il tema del volo è un mio tema, me ne sono occupata a lungo. In questo cornice è sembrato, appunto, come un accordo anche con l'organizzazione. Anche perché, mi scusi se la interrompo, Silvia Romani, il tema di quest'anno è ai confini della libertà, quindi... Esatto, esatto. E ci siamo. È sembrato che il cielo fosse un luogo giusto da esplorare per cercare di capire quanto e come quel che ci raccontano gli antichi abbia ancora senso nella contemporaneità. Davvero, e si approda anche a delle riflessioni che, secondo me, sono piuttosto sorprendenti. Anche perché c'è stata una stagione bella, importante, ne parla a lungo Piero Boitani in un bel libro sul volo che noi abbiamo soprannominato in Italia alla stagione di Icaro, cioè i primi trent'anni del secolo scorso, in cui avviatori coraggiosi, eroi dell'area come Lauro De Bosis, ma anche ancora prima quello che fece, che ha fatto D'Annunzio, si identificavano proprio con il mito dell'eroe in volo, in particolare con Icaro. Lei, tra l'altro, ha ricordato Lauro De Bosis, che noi abbiamo giusto raccontato poche settimane fa, qui nel nostro piccolo posto della canola. Ah, benissimo. Perché siamo partiti, Silvia Romani, da un piccolo libro pubblicato dalla casitrice Lorma. Lorma e Lauro De Bosis racconta in questo piccolissimo libro in volo su Roma, e per farla breve, lui ha spedito, per così dire, 400.000 lettere. Lui era un poeta antifascista e volava cercando di portare avanti i suoi ideali, le sue idee. Le lettere poi non le ha spedite, ovviamente le ha lanciate con il suo aereo, in maniera più o meno fortunata, ma lo lasciamo scoprire i nostri ascoltatori. E stava dicendo, Silvia Romani? Stavo dicendo che in quella stagione De Bosis lo mostra bene, tra l'altro De Bosis è una figura che io ho molto cara, penso molti di noi, anche perché è stato uno straordinario traduttore del ramo d'oro di Fraser, così come di tantissime tragedie antiche. È anche un grande traduttore, e quindi per lui gli antichi sono stati veramente un'esperienza viva, se li è tenuti cari e se li è tenuti vicini. E in questo caso per De Bosis volare significava echeggiare, riproporre l'impresa che era stata d'Icaro prima di lui, e così aveva pensato di fare anche d'annunzio nel 1918, a cui anche in parte De Bosis si ispira. Però quello che trovo sia molto interessante è che in questi straordinari intellettuali, in questi artisti, il volo è davvero il segno dell'uomo libero, e Icaro è il rappresentante perfetto di questo volo. E invece per gli antichi Icaro era colui che non era riuscito a volare, di fatto, che era caduto, che era precipitato. Perché aveva la tracotanza, aveva quella che si chiamava un tempo la hubris. Perché la tracotanza, aveva la hubris, e soprattutto quello che non gli hanno mai perdonato gli antichi, in tutte le fonti che ne raccontano la storia, e così come era accaduto per Fetonte, il volo, se è libero, ha da essere anche un volo intelligente, deve essere sotto controllo, deve essere un volo che non dimentica mai che se si vola troppo in alto si arriva agli dei. E questo non può accadere in nessun caso. Quindi, appunto, questa è la virtù, la pratica, la disciplina della via di mezzo, in realtà si applicava anche a questi grandi racconti di libertà e di fuga, anche dalla prigionia, perché Icaro, come forse ricordiamo, con il padre Dedalo, scappa da una prigione, che è la prigione delle prigioni, il labirinto, quindi vola, vola via, ma non gli si perdona il fatto di aver sbagliato, di aver peccato di intelligenza, di non aver conosciuto, diciamo, le regole. Non aver conosciuto le regole, però a volte, Silvia Romani, le regole bisogna un pochino superarle o circuirle. E in questo forse ci sta un po' simpatico Icaro, perché Icaro è un personaggio sicuramente molto plurale, come diceva lei, giustamente, ad una parte lui ha osato sfidare quello che non doveva sfidare perché si avvicinava troppo agli dei, ma nello stesso tempo lui che cosa ha fatto? Ha cercato di volare, ha cercato di diventare uccello e ha cercato di conquistare. Ecco, il verbo conquistare per l'uomo è una cosa straordinaria e in quel momento Icaro stava facendo una conquista forse la più grande in assoluto, cioè l'uomo che vola. E infatti, per esempio, Alessandro Magno amava moltissimo Icaro. addirittura ha cercato di rinominare una spiaggia per ricordare la morte di Icaro, perché questo l'aveva capito molto bene. È il simbolo del coraggio, anche un po' insensato, ma visto che è insensato, è quello che varca i limiti, che approda un universo in cui cadono anche, precipitano anche le regole, e quindi ci si trova sul serio liberi. E poi ci si trova sul serio liberi e diventa veramente l'espressione di grandiosità della libertà, ma a questo punto, dopo il verbo volare, andiamo a incontrare la parola libertà, che se volare è difficile, la parola libertà è ancora più difficile, perché la libertà, è molto facile dire la parola libertà, però lo sappiamo in questi ultimi tempi, quanto sia delicata, fragile, quanto sia umana, e quanta hubris forse ci voglia anche nel curare la parola libertà. Sì, sì, effettivamente è vero. Forse una cosa che gli antichi possono insegnare bene da questo punto di vista, in un mondo in cui obiettivamente la libertà era soggetta a molteplici regole, è che non esista la libertà senza contemporaneamente il senso del limite. Può consistere anche nel varcarlo, questo limite, ma essendone sempre e smisuratamente consapevoli. Ecco, questo i greci lo sapevano benissimo, e in questo modo hanno coltivato la libertà, sapendo che a volte consapevolmente violavano il limite imposto dalla divinità tipicamente, ma anche dalla comunità degli uomini, ma lo facevano riconoscendolo, ecco. Eh sì, lo facevano riconoscendolo, e qui forse sta un po' il vulnus della libertà oggi, perché riconoscerla, qual è la nostra difficoltà oggi nel riconoscerla? La nostra difficoltà nel riconoscerla, credo dipenda molto banalmente, ma qui non vorrei davvero essere troppo superficiale e andare sulla superficie delle cose. Credo proprio che la nostra sia un'idea malintesa di libertà, come la possibilità di esprimerci senza cura, senza nessun senso del limite, del confine, del rispetto. Il famoso tema, leitmotiv, la mia libertà, finisce dove inizia quella dell'altro, diciamo che questo ce lo siamo francamente scordati, ecco. Non so dire dove andremo, non voglio nemmeno fare la tipica gnome da antichista che si ricorda i tempi andati, no, non lo penso assolutamente, credo che l'assoluta disponibilità di, l'assoluta disponibilità d'accesso a ogni strumento di informazione, quindi di esternazione del sé, stia facendo davvero molti danni, ma questo lo sappiamo benissimo. Ora abbiamo incontrato la figura, abbiamo incontrato la figura di Icaro, incontriamo anche la figura di Fetonte, che per certi aspetti si parla, no, in questa ricerca esasperata della libertà e quindi anche della libertà verso un'altra parola che potrebbe essere l'immortalità. Oggi questa parola immortalità ha la luce proprio di quello dell'esperienza antica. Oggi la nostra immortalità da che cosa è data? Forse da uno smartphone? Ma chissà da che cosa è data l'immortalità. Forse qualcosa ci accomuna agli antichi e l'immortalità in parte è data dalla nostra capacità di farci ascoltare e di farci ricordare. Gli antichi pensavano che l'unica forma di immortalità concessa agli umani fosse quella della memoria e del ricordo, del racconto che fanno di te le persone che ti amano, ti hanno amato anche quando non ci sei più e naturalmente se sei un eroe il modo in cui la tua storia e il tuo racconto risuona nell'eternità. Ecco, secondo me c'è un disperato tentativo di far sì che il nostro racconto rimanga, che non sia solo nostro ma sia di tutti, che duri, che venga raccontato da altri. Credo che forse questo sia un po' la nostra tensione verso l'immortalità anche perché purtroppo il periodo terribile che abbiamo attraversato la nostra esperienza è recente e ci ha insegnato quanto obiettivamente l'immortalità dei corpi nonostante tutte le promesse sia di fatto impossibile anzi continuiamo a essere quel che diceva Pindaro creature di un giorno ma con la possibilità di così di dilagare di essere e di rimanere attraverso attraverso il racconto ecco. E più grave Silvia Romani è più rovinosa meglio la caduta di Icaro o quella di Fetonte? Ma rispondo subito che per gli antichi indubbiamente la più grave era quella di Fetonte perché Icaro segue la traiettoria al destino di un individuo soltanto la sua è una caduta personale una tragedia intima quasi anche perché pensiamo soltanto al fatto che suo padre con le medesime ali si è salvato è arrivato da Creta fino alla Sicilia quindi come dire il mezzo funzionava era rodato lui invece cade e rovina ma cade solo lui dal nome a un piccolo braccio di mare ma altro non succede mentre Fetonte sarendo in alto sul carro del sole la sua la sua corsa senza fiato è così così rovinosa che anche anche le stelle rovinano con lui il mondo va a fuoco tutto l'universo si scompagina quella di Fetonte è una specie di caduta cosmica diciamo mentre quella di Icaro che a me sta molto simpatico di Fetonte devo dire la verità è la caduta di un singolo eroe di un singolo uomo forse per quello ci appassiona così la sua vicenda perché possiamo essere come Icaro ecco certamente non come Fetonte La libertà di volare è il titolo dell'incontro a Biennale Democrazia insieme con Silvia Romani il 23 marzo alle ore 18 a Palazzo Madama nella Sala Festa è anche anche un luogo molto molto bello per questo incontro Silvia Romani davvero e a proposito di libri qual è il suo ultimo libro pubblicato l'ultimo libro pubblicato è un libro dedicato a Saffo che si intitola Saffo la ragazza di lesbo pubblicato da Inaudi da Inaudi a qualche mese fa sì e prima di salutarci invece Silvia Romani qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? ma ne ho due sto concludendo finalmente Tasmania che credo di essere fatta solo a non avere ancora finito che mi sta piacendo molto e sto leggendo un bellissimo libro di una poetessa e studiosa dell'antichità che io amo molto che si chiama Ann Carson e che si intitola l'autobiografia del rosso una sorta di biografia di Gerione del gigante Gerione molto molto bella molto appassionata Autobiografia del rosso di Ann Carson pubblicato se non ricordo male dalla nave di Teseo esatto grazie ancora Silvia Romani e buon festival buona serata grazie a voi grazie di avermi accolto buona serata arrivederci grazie a tutti